Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parleremo di isolamento acustico. L'isolamento acustico è quella cosa che serve quando di fuori è molto rumore, perché se vuoi vivere in modo confortevole la tua casa, occorre schermarsi, quindi isolarsi da rumori provenienti dall'esterno. Uno dei principi dell'isolamento acustico è che serve un mezzo col quale trasportare le onde sonore. Le onde sonore infatti si trasmettono via aria, via acqua o via anche con un metallo. Non si può propagare l'onda acustica sottovuoto, come ad esempio nello spazio. E proprio per questo motivo, siccome l'aria è uno dei fattori più importanti nel nostro caso, nel discorso finestre, basterebbe anche una piccola fessura in un infisso dove passa aria, passa acustica, quindi anche se ho fatto un infisso certificato acustico molto buono, con un vetro molto molto buono, in realtà in quella casa non ci sarà comfort acustico. Come non ci sarà comfort acustico? Se avrò scelto infissi diversi o vetri diversi, come viene fatto normalmente, soprattutto nel discorso dei vetri, perché infatti vengono messi dei vetri nelle porte finestre con delle caratteristiche e dei vetri nelle finestre con altre caratteristiche. Spesso queste caratteristiche differenti danno due risultati acustici diversi e se magari quello più prestazionale in soggiorno e quello meno prestazionale nella camera da letto è ancora più un disastro. Diciamo che il comfort acustico vorrebbe il più equilibrio possibile nell'acustica per avere appunto un comfort per abitare bene all'interno di quella casa. Quali sono i principi che fanno ottenere un ottimo isolamento acustico? Uno dei primi principi è la massa, quindi avere dei materiali pesanti, e un altro principio è la molla, quindi avere degli ammortizzatori che possono smorzare le onde acustiche. Un esempio che funziona molto molto bene è un infisso in alluminio a taglio termico, perché abbiamo appunto la massa che è l'alluminio, l'ammortizzatore centrale che è il taglio termico, in questo caso una poliamide rinforzata con fibra di vetro, e all'esterno ancora alluminio. Quindi abbiamo un principio di massa, molla e massa. Questo funziona molto bene per smorzare le onde acustiche. Poi spessori diversi, camere diverse, aiutano a bloccare delle frequenze acustiche diverse, perché l'acustica è veramente una cosa molto molto difficile. Non invidio gli ingegneri acustici che fanno un mestiere veramente tra i più difficili. Un altro concetto di massa, molla e massa, è un concetto di vetro. Questo vetro qui, adesso questa è una pellicola che si chiama biancolatte, però come puoi vedere al centro, è appunto un materiale plastico, un poli, un pvb per gli amici, perché la parola è veramente brutta da pronunciare, poli di nilbutirrale. Due pezzi di vetro, quindi massa nel mezzo, molla e massa ancora. Quindi anche questo funziona appunto da ammortizzatore. Nel vetro camera il mio consiglio è di mettere sempre un vetro stratificato, per la sicurezza delle persone, e anche per avere un'ottima acustica. Quindi se ho un vetro stratificato dentro, poi ho la camera d'aria, che se hai guardato bene il blog, avrai nessun cannellino termico. Il cannellino termico non è in alluminio, quindi anche quello funziona da ammortizzatore. Quindi abbiamo un altro ammortizzatore che ci fa guadagnare prestazione acustica. Poi nell'altro vetro sarà ancora con la pellicola, quindi abbiamo uno, due, tre ammortizzatori in un vetro doppio. Nella stessa posizione avremo un ammortizzatore, ad esempio, un unificio di alluminio a taglio termico. In questo modo, anche con una prestazione base, senza ricercare delle prestazioni molto molto spinte, avrà un'acustica già molto buona, già di serie. Il tutto per funzionare avrà bisogno di avere un controtelaio fatto come si deve, e una posa di un'opera fatta come si deve, perché se nella posa di un'opera è fatta con il silicone come una volta, l'acustica non avrà una gran resa. Soprattutto il silicone dopo un po' perde la sua resicità, quindi da lì inizia a passare aria, e se ti ricordi una delle prime cose che ti ho detto all'inizio, l'aria è un ottimo mezzo di trasporto per il suono, per le onde sonore. Scenderò un po' più nel dettaglio, nel discorso delle frequenze, del suono e nell'acustica, più avanti, sempre se segui questo canale, attraverso altri video, perché è un argomento molto delicato, ma penso che già questa infarenatura generale ti abbia dato dei concetti molto molto validi per vivere la tua casa in maniera più confortevole. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!